Arrivano 45 milioni di euro per gli ospedali di Crotone e di Lamezia Terme. Il Ministro della Salute ha infatti comunicato che è stato approvato l'accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari nell'ambito del programma investimenti ex articolo 20 della legge del 67 e del 88 sottoscritto il 26 agosto del 2024 dallo stesso Ministero con la Regione Calabria. La sottoscrizione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la conferenza Stato-Regioni prevede un accordo di programma e la realizzazione di due interventi per l'adeguamento e il potenziamento degli ospedali di Crotone e Lamezia Terme finanziati rispettivamente con 25 e 20 milioni di euro. La realizzazione di questi interventi consentirà di adeguare i presidi ospedaliere di Crotone e Lamezia dal punto di vista funzionale, impiantistico e anche strutturale ai requisiti richiesti dalle normative nazionali e regionali vigenti. La finalità è quella di garantire adeguati standard di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e di migliorare anche i luoghi di cura e di degenza. A questo riguardo il settore edilizia sanitaria della Regione Calabria, ce lo comunica anche il Presidente Occhiuto, ha fornito alle competenti aziende sanitarie provinciali le necessarie indicazioni per l'avvio di progettazioni di interventi. Il Presidente della Regione, Roberto Chiuso, si è detto soddisfatto di quanto si sta sviluppando, evidenziando che questa è solo una parte del percorso che è stato avviato per tutti gli ospedali più importanti dell'intera Regione Calabria.